Ciao a tutti amici, io sono Cliffbooth007, Sina, LOL, chiamatemi come volete e benvenuti nel nostro primissimo video l'inizio di una lunghissima e divertente avventura ho aperto questo canale perché voglio condividere le mie passioni con più gente possibile e vorrei presentarvi le mie rubriche per esempio il Talking About Tarantino che ogni video dopo video esamineremo tutti i suoi film sotto vari punti di vista il Fumettiamo, video sul fumetto, sul disegno, queste cose qui imparare a disegnare vari personaggi in stile humor, verista e varie cose il Cine Reporter, quindi tutte le mini recensioni lunghe 4-5 minuti dei film che vedo, anche vecchi e infine le top cinematografiche musicali dove in ogni video ordinerò per ordine di gradimento mio vari film di autori o generi oppure album di band o cantanti perché ricordate, il cinema è vita